Sono riversate oltre 30.000 persone per visitare lo splendido treno a vapore di Trenitalia. Corse gratuite di treni navetta da e per Briga hanno accompagnato i visitatori per tutta la giornata dall'Italia alla Svizzera e viceversa. A Briga, un'imponente manifestazione organizzata dalle ferrovie SBB CFF-FFS con l'esposizione di treni, tra cui il leggendario Venice Implant Orient Express, il treno di spegnimento e di salvataggio, il treno scuola FFS, un treno per il trasporto delle automobili, diverso materiale rotabile storico e moderno della ferrovia Matterhorn-Gothard-Bahn, un treno merci della lunghezza di circa 160 metri e un TGV Liria. La simulazione di una caduta di massi durante i lavori di scavo del tunnel è molto altro ancora. Questa è stata un'altra cosa di un'altra cosa, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Vi auguriamo un piacevole e indimenticabile soggiorno aprile Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.